Grazie al nostro Presidente! Grazie a tutti! Pianissimo. Mamma mia, questo è un pochettino più complicato, ma proviamoci, proviamoci. Non è vicino a 100 punti per i ragazzi, magari... Bacodio! Bacodio, che sensazione! Questa, credo che sia un qualcosa di esemplare, di unico, è un qualcosa che tutta la città aspettava. Io ho giocato per 13 anni e alleno qui da 4 anni, credo che sia una gioia per tutti, anche questi bambini intorno, che sono qualcosa di immensa. Com'è questa piazza stasera? Com'è questa piazza? Prova a girare la telecamera e poi guarda tu stesso. È unica, ma i cerinelli sono sempre stati questi pure. Hanno sempre avuto questo fuoco calcistico dentro e questa è una cosa bellissima. Grazie Antonio. Grazie a te. Grazie. Allora, vediamo un attimino se riusciamo anche a beccare Giuseppe. Riusciamo anche a rivedere un unione semplicissimo. Giuseppe. 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 Ciao. Ciao. Come stai? Com'è questa sensazione stasera? Bella. È un giorno di gioia perché abbiamo lavorato un anno per arrivare a questo piazzino. È stata bella anche la partita oggi. Molto bella. Grazie Giuseppe. Questa la dobbiamo fare tutti! È tanto già all'osso! È tanto già all'osso! in zona passivo! È giusto di sabato! Ave. Ave. Ave! Ave. È. È tanto già all'osso! È tanto passivo! Giorno di sabato! Are Ave! Ciao! Ciao. Cor minute. Non si decide riuscire a passare da questa parte ma non ci proviamo. Ci stanno passando i piedi ma... Non si mette a capire un milione. Speriamo a vedere se lo facciamo anche ad avvicinare... ... il capitetto anche se... Tutti! Dai tutti! Diventiamoci! Condiamoci questi momenti! E ce lo divertiamo tutti! Shalalalala! Shalalalala!